Con Giselle il balletto classico torna al Teatro Petrarca di Arezzo. Lo spettacolo organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo era il quinto appuntamento del cartellone 2016-2017. Con i danzatori del balletto di Roma il Petrarca ha dunque ospitato uno dei più noti tra i balletti del repertorio classico romantico. La compagnia ha portato in scena il doppio remake di un classico in cui la tragica trama sapientemente si confonde con gli ingredienti della danza di oggi e con le strutture di pensiero della quotidianità contemporanea. Grazie a tutti.